Cleito, Petra Mala un tempo, è un comune italiano con meno di mille abitanti dalla provincia di Cosenza, posto sulle colline di fronte alle isole eolie, presi la cosentina alle spalle. Cleito ha un castello medievale, è stato consegnato nel suo splendore nel 2010, io nel 2011 l'ho visitato e sono ritornato nel 2014, la cosa che mi piaceva di più di questo angolo del castello erano questi gradoni, mi sembrava un'invenzione stupenda, immaginavo che un giorno avrei assistito a un recito di poesia o un'altra invece, invece giudicate voi, questi legni non hanno mai avuto una mano di vernice, wow, ma... grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori,